In San Pellegrino crediamo che il gusto, l'innovazione e la creatività possano davvero trasformare le nostre vite. Per questo abbiamo creato la nostra rivoluzione partendo dalle arance, una delle fonti del nostro gusto, da cui nascono le inimitabili bibite San Pellegrino. Siamo partiti dalla Sicilia e qui, guidati dal nostro spirito innovativo, abbiamo recuperato le bucce delle arance, dando loro un nuovo valore e una nuova vita. La nostra ambizione è diventata realtà tramite l'innovazione tecnologica di Krill Design, che ci ha permesso di trasformare le bucce prima in biopolimeri e poi, attraverso la stampa 3D, in una vera collezione di eco design. La creatività di San Pellegrino ha incontrato l'estro di Seletti per concepire degli oggetti unici, come le nostre bibite, che celebrano la bellezza delle arance e conservano la memoria della propria origine. Questa è la San Pellegrino Sicily Revolution.